oh salve ragazzi bentornati dal vostro spiderweb oggi voglio fare il primo livello di cat mario no non è questo che c'è scritto che c'è scritto che c'è scritto c'è scritto probabilmente c'è scritto questo e i tasti sono gesta sinistra su e giù allora abbiamo tre vite vedrò di non sprecarle anzi di non morire mai allora ah il fantasma sali ok qui uscirà un fantasmino vai ecco vai via ah ah tenete premuto su fare un salto più lungo devo dire perché molti ci cascano che non mi ricordo dove la trollata mi sembra che devo fare un salto più lungo qua devo correre corri 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 ce l'ho fatta perfetto guardate dove cazzo ti si stai tenendo vabbè c'è una piattaforma invisibile non lo sapevo ok qua sotto il pavimento crollerà vi faccio vedere che crolla no vabbè crolla ecco avete visto ok qua dovete stare attenti per caccio no dov'era devo andare ancora su no dove devo solucerare questo ok salite qui mi raccomando non andate a finire qui perché se beh non ve lo faccio vedere comunque non potete più risalire perché vi compariranno se provate a saltare compariranno delle mattonelle non potrete più andare quindi dovrete morire per forza ok qui vi consiglio di andare piano perché la nuvoletta è finta cioè vi ammazzarà state attenti qui perché usciranno dei fantasmi e dovrete saltarli in questo modo ok attenzione qui state cauti passerà un razzo che cazzo è tenete premuto il tasto su scus'è no tasto su ecco è partito un missile non so che cazzo era attenti qui dovrete fare un salto lunghissimo dovete superare l'assastro di partela no guarda che devo ritornare a sto no ecco adesso succede questo guarda guarda che non muore non muore nemmeno non muore c'è c'è un bug lì ecco e visto cosa succede se non saltate lì ok scusate il fail non mi ricordavo che c'era il fantasma alla fine comunque che palle ecco il siluro vi dicevo dovete fare un salto lungo 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 ecco attenti a questo fantasmino il livello è completato signori benissimo questo era il primo livello di cat mario fatemi sapere se vi è piaciuto qui si aprono cose perché non è più il cat mario originale boh l'hanno cancellato non si sa niente se vi è piaciuto fatemi sapere se volete che vi faccio anche gli altri ci vediamo nel prossimo video ciao ciao